Buonasera a tutti, grazie e benvenuti a questo 14esimo premio del Vittoriale e al Vittoriale. Saluto tutte le autorità militari e civili, ma prima di cominciare voglio fare una comunicazione di servizio. In questi giorni circola molto la voce, anche sui giornali, anche oggi, che io dirigerò un museo che verrà dedicato a Silvio Berlusconi. Non è assolutamente vero, lo nego soprattutto per la stampa presente e non per motivi politici, ma perché quello sarà un museo di famiglia, quindi che curerà la famiglia secondo i suoi affetti. Gabriele D'Annunzio ha lasciato il Vittoriale degli italiani e i suoi beni agli italiani, quindi la famiglia di D'Annunzio siete voi, siamo tutti noi. Grazie. Quest'anno ci occuperemo molto di poesia, come sempre, del resto, ma di più il 14 luglio qui in Antiteatro si terrà la serata a più luce, dedicata appunto alla poesia e a ingresso gratuito. Siete invitati sin d'ora. Poi in settembre a Pescara, il convegno che facciamo ogni anno, 2-3 settembre, sarà pure dedicato alla poesia con una giornata critica curata da Pietro Gibellini e da un'altra giornata curata da Armando Paccagnini. Il professor Gibellini è presente qui, è membro del Consiglio d'Amministrazione, come Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia, fanno parte del Consiglio d'Amministrazione del Vittoriale che decreta a chi vince il premio. Quindi grazie Pietro e grazie Roberto. Allora, il 14esimo premio del Vittoriale viene conferito a Nicola Crocetti. Ma per leggere la motivazione e condurre la serata voglio qui un amico del Vittoriale, mio personalmente e credo anche di tutti voi che siete numerosissimi, Lorenzo Giovanotti. Buonasera, buonasera maestro, buonasera a tutti, buonasera, davvero sono felice di essere qua, onoratissimo e mi sento molto privilegiato perché con Giordano Bruno Guerri abbiamo da poco visitato con lui il Vittoriale, quindi insomma seguendo i suoi racconti, per cui insomma per me è una giornata indimenticabile questa perché non c'ero mai stato, una volta ero qui, non c'ero mai stato perché ero qui, ho andato in avanscoperta mia moglie e mi ha chiamato e mi ha detto guarda un casino è pieno di gente, per cui non me lo sarei, divento ingombrante io nei posti, quindi ho detto vabbè ci andrò un'altra volta, anzi in quel momento ho pensato tanto prima o poi incontrerò Giordano Bruno Guerri e quindi chiederò a lui, dico ma è possibile vedere un po' il Vittoriale? Quindi l'occasione poi si è presentata, sebbene io non sia il protagonista di questa serata ma sia solamente il il Valletto, no no ma un po' poco orgogliosamente lo dico perché sono qui a consegnare questo premio prima però vorrei ringraziarti per l'invito e anche per aver pensato al premiato perché ritengo questa tua scelta giusta in questo momento della storia, della nostra cultura, l'idea di premiare comunque il più importante editore di poesia che abbiamo è un segno che mi commuove, mi commuove da appassionato di poesia, da credente nel verso tu stesso insomma ci ricordi che d'annunzio un suo motto, una sua frase è il verso è tutto il verso è tutto ed è veramente così, quindi insomma premiare uno che del verso ha fatto il suo tutto rendendolo il suo lavoro, la sua passione, la sua attività mi sembra semplicemente giusto poi farlo qui in questo luogo importante, prezioso, io uso una parola impropria ma in realtà la uso apposta sono un fan di d'annunzio, nel senso che sono un fan come sia un fan di una rock star, di un grande personaggio di un personaggio mirabolante che però poi contiene anche la grandezza del verso quindi d'annunzio non è solamente un personaggio come molti di noi lo percepiamo perché è famosissimo anche per chi non ha mai letto neanche una parola spesso d'annunzio è famoso per chi non conosce niente di d'annunzio e poi quando entri nel verso scopri la grandezza e quindi leggendo anche le cose che si leggono a scuola, rileggendo perché a scuola non si intercettano si fa fatica, anzi si vivono spesso con la noia e col distacco poi invece rileggendolo come spesso succede con le grandi cose che a scuola non si riescono a beccare a meno che uno non abbia la fortuna di trovare un professore eccezionale quello fa parte della fortuna e non della normalità poi si scopre la grandezza ma a proposito di grandezza siamo qui per consegnare questo premio un premio importante veramente perché poi è dato da l'attitoriale ad una persona che ha a che fare con la cultura del nostro paese e stasera c'è una motivazione c'è una motivazione che ti prego di leggere, guarda ce l'hai scritta lì sul gobo è semplicissima, densa e piena ah, ecco io? a Nicola Crocetti perché? perché ha scritto, tradotto, pubblicato, difeso, diffuso e soprattutto amato la poesia Nicola Crocetti Nicola Crocetti Nicola, oltre a questo applauso strevitoso hai diritto di sederti su questa opera unica di Franco Summa che è ispirata a una novella di D'Annunzio e dove ci sono seduti, ti giuro, solo i vincitori del premio mai nessun altro noi invece abbiamo queste sedie di Giancarlo Maroni il nostro architetto avete messo il nostro libro, io l'avevo portato per precauzione quindi sì, abbiamo messo il nostro libro con le orecchie, io ho fatto tutte le orecchie invece questi sono nuovi con la fascetta che è un'idea geniale questo libro perché è un'antologia è un'antologia di poesie scelte in parte da Lorenzo in parte da Nicola poesie bellissime tra l'altro tutti gli autori di tutto il mondo di tutte le epoche c'è anche una di D'Annunzio, grazie e questo libro pensate che in Italia al massimo un libro di poesie di un autore di grande successo vende 2.000 copie questo ne ha vendute oltre 60.000 e non lo dico perché è un'operazione di marketing o perché è un'operazione che ha funzionato eccetera è un'operazione di genio perché ha diffuso la poesia dove in genere non arriveremo merito suo è merito tuo Nicola fa l'editore da oltre 40 anni dall'81 se non sbaglio appunto 4.000 poeti pubblicati è una divulgazione della poesia trepitosa sei il primo editore a cui si pensa quando si desidera pubblicare qualcosa Lorenzo io sei qui è ancora un caso eccezionale raro prezioso io ti prego di fare tu il bravo conduttore grazie io vorrei che visto che Nicola ha detto solamente grazie per adesso vorrei che lasciare a lui la parola per se stavo premiato quindi grazie non basta motiva sviluppa il discorso un po' devo dire qualcosa sul mio con parole tue non con quelle di o di D'Annunzio anche queste le mie parole nella sera sia come il fruscio che fa le foglie del gezzo nell'amante chi le coglie eccetera wow il mio rapporto con D'Annunzio è vista la mia età ma è antico io sono cresciuto da ragazzo a Settignano per chi di voi lo conosca è un paesino su un colle prospicente Firenze in un collegio che doveva essere una villa ottocentesca riattata a collegio per per bambini poveri e derelitti quali noi eravamo all'epoca e alle soglie dell'adolescenza sentivamo parlare a Settignano perché Settignano devo dire per chi non lo conosca a Settignano c'era la villa della Capponcina e la Capponcina era il buon retiro di D'Annunzio con una delle sue più celebri e più amate amanti la Eleonora Dugosè e alle soglie dell'adolescenza si sentiva parlare di questo uomo famoso raffinato pieno di donne noi ragazzini e allora con alcuni miei compagni uno in particolare facevamo a gara a chi imparava a memoria più poesie di D'Annunzio poi una domenica che avevamo una libera uscita dal collegio allora i collegi erano peggio delle prigioni dei carceri come dicono oggi delle case circondariali una domenica andammo a vedere questa famosa capponcina a cercare di entrare a scoprire chissà quale misteri in realtà c'era un cancello di ferro che la sbarrava l'ingresso e allora noi ragazzini poco più che decenni cosa facevamo con un chiodo incidemmo i nostri nomi sul cancello oggi ci avrebbero arrestati ma c'è di buono che i cancelli si ripitturano ogni poco quindi insomma e questo è non solo ma il collegio dove io stavo a Settignano era in via Gabriele D'Annunzio si partiva con un filobus da piazza San Marco per chi conosce Firenze e si arrivava su su attraverso un lungo viale via Gabriele D'Annunzio appunto fino alla piazza centrale di Settignano questo è il mio primo ricordo infantile che mi lega a D'Annunzio mi hai raccontato anche che facevate una gara a chi ne imparava di più imparava più poesie sì sì qual è la tua più amata? c'è una poesia di D'Annunzio che ancora ricordi? la sera fiesolana poi c'è un capolavoro sottovalutato è la pioggia nel pineto che ci facevano studiare a scuola che nessuno amava perché ci costringevano a imparare la memoria ma se tu ci pensi le poesie di D'Annunzio sono musica assolutamente e la pioggia nel pineto è una ti fa sentire la pioggia che cade sui detti anche quella che abbiamo pubblicato noi anche l'onda che fa sempre parte dell'alcione di quella anche l'onda suona come suona come parole sono musica sono assolutamente musica io molte delle parole non le conoscevo cioè ma la poesia sono in grado di apprezzare chi di due ha scelto quella poesia? io l'ho scelta io quella ma lui è stato d'accordo in realtà il libro è nato prima il titolo del libro stesso per cui il titolo ci ha guidato il titolo poesie da spiaggia l'idea comunque di raccogliere delle poesie che avessero a che fare con l'estate e con la vacanza e con il mare ha guidato le scelte poi ci siamo abbiamo violato un po' questa regola è nato a scegliere anche cose che non direttamente sono collegate a quello e quindi l'onda era anzi è stato una delle prime perché quella poesia lì mi ha fatto pensare che potevo rivolgermi a lui e tentare questa pazzia perché voi immaginate la scena insomma di un cantante pop che scrive una mail a Nicola Crocetti pensando che lui ignorasse anche la mia esistenza e anche della musica pop quindi ho un'esistenza cioè che immaginavo una poltrona così no siamo ferrati sulla musica pop invece sapeva tutto come lui è ferrato come tu sei ferrato sulla poesia tu sapevi tutto sapevi anche il mio nome di battesimo per cui mi ha risposto ciao Lorenzo io gli ho scritto una mail proponendogli questa idea perché in realtà è nato da un'immagine ho pensato pensa che bello vedere in una spiaggia sotto un ombrellone qualcuno che tiene in mano invece del giallo dell'estate tiene in mano un libro di poesie con la copertina Crocetti proprio austera riconoscibile con però scritto Nicola Crocetti e Giovanotti poesie da spiaggia per cui aveva per me il libro poteva anche non avere nessuna poesia dentro cioè mi piaceva questo oggetto no no davvero è un'opera che ha un valore è un'opera in sé è un'opera in sé è un po' come io adesso vedo in prima fila Giosi Calasso la figlia del grandissimo Roberto Calasso è un po' come i libri a Delfi a volte i libri a Delfi valgono acquisa un libro a Delfi anche semplicemente perché ha tratto da pulchettare sono belli senza leggerli e Crocetti riesce in questo miracolo comunque in questa cosa magica di presentarsi comunque di aprirti a un sentimento di fiducia anche semplicemente prendere di mano io spesso compro i libri i libri Crocetti anche senza sapere niente perché so che poi comunque troverò dentro qualcosa che mi farà piacere leggere io adesso non voglio fare io sono tra due grandissimi davvero lo dico e questo mi succede io te l'ho già detto oggi quando ci stanno incontrati lo faccio con i tuoi libri cioè i libri di Giordano Bruno Guerra io me li compro li sono comprato anche questo sulle prete che è uscito recentemente Buon Aiuto come si chiama Buon Aiuto mi ricordo mai noi è bellissimo tra l'altro ve lo consiglio è molto bello ho comprato il libro fotografico su D'Annunzio insomma quando quando hai un editore uno scrittore una figura di riferimento che sai che il suo lavoro lo fa lo fa con serietà lo fa con passione passione è una parola che ricorre spesso nelle nostre nelle nostre chiacchierate per me è quella è il segno del mi posso affidare so che posso affidarmi e non succede mica così spesso per questo lo dico perché sono così poche le persone che intercettiamo nella nostra vita che dici di questo mi fido di questo questo sta sta facendo un lavoro serio sta lavorando seriamente sta lavorando con passione e con sapienza naturalmente e niente poi il libro ha avuto molto successo e quindi insomma mi fa piacere perché la poesia inciampare nella poesia è una delle cose meravigliose che ti possono succedere nella vita il verso è tutto davvero e quindi e la poesia non ha bisogno di strumenti ha bisogno di ha bisogno di passione ha bisogno di volontà di di vivere un inciampo come un'occasione per cui quando quando incontri la poesia la tua vita si apre a nuove possibilità si apre a alla meraviglia soprattutto alla profondità e quindi per me sapendo di avere questa possibilità di intercettare altri che magari si rivolgono a me non per la poesia ma per il divertimento per la musica per passare una bella serata l'idea che possa diventare un cavallo di troia in quel momento per far entrare nella vita di qualcuno un verso una poesia mi è sembrato bello giusto e quindi quando poi il libro ho visto che addirittura nella classifica dei libri un libro di poesia non c'è mai nella classifica dei libri ho detto bingo ce l'abbiamo fatta abbiamo fatto una figata infatti poi io ho già detto facciamo un altro ecco adesso che ti sei definito cavallo di troia cavallo è c'è un cavallo lì di Palladino è certo bellissimo vogliamo chiedere a Crocetti cos'è la poesia lo chiedo anche a te poi no no chiediamolo a lui cos'è la poesia cos'è la poesia perché noi siamo poesia poesia l'abbiamo citata mille volte senza mai definirla ci sono migliaia di definizioni e a cosa serve e a cosa serve la poesia dacci la tua un grande poeta dell'ottocento diceva la poesia serve a rendere i nostri tempi meno miserabili già è bellissima e i tempi che tutti viviamo sono decisamente molto miserabili non so se hai visto tutti avrete visto il film di Neruda il postino di Neruda con Troisi a un certo momento Troisi ruba una poesia di Neruda per conquistare la cucinotta di cui è innamorato e Neruda gli fa una reprimenda e dice tu hai rubato una poesia che gli ho scritto per la mia Matilda Troisi risponde caro il mio poeta la poesia non è di chi la fa è di chi gli serve la poesia serve anche a quello serve anche a conquistare la persona amata o a mille altre cose e tu hai scelto di essere un editore di poesia con quello spirito di Troisi ovvero per sedurre no ma per sedurre anche un mondo non necessariamente una persona per una passione antica una cosa che volevo dire di D'Annunzio che forse nemmeno tu Giordano Bruno conosci forse anche se tu sei tutto ai tempi D'Annunzio D'Annunzio aveva un rivale amico rivale che era Pascoli erano entrambi molto famosi i fan si dividevano in due schiere su chi lo consideravano il più grande poeta italiano allora vivente e io che ho conosciuto centinaia per non dire migliaia di poeti centinaia li ho conosciuti di persona migliaia li ho pubblicati nessun poeta è disposto ad ammettere che un altro poeta è più bravo di lui e naturalmente neanche Pascoli D'Annunzio erano disposti ad ammettere che uno dei due era più bravo di lui poi D'Annunzio era quel tombeo de femme raffinato pieno di donne dalla vita inimitabile dalla vita come diceva lui un capolavoro voleva fare della sua vita un capolavoro e l'aveva fatto Pascoli poveretto era coltadino tozzo rozzo nell'aspetto anche se era un uomo di intelligenza raffinatissima perché traduceva Tennyson dall'inglese scriveva poesie in latino che sono meravigliose ecco una cosa che bisognerebbe fare che non è escluso che io la faccia pubblicare le poesie latine di Pascoli che nessuno conosce che sono meravigliose quando Pascoli morì nell'aprile del 1912 D'Annunzio gli sopravvisse se ricordo bene per 16 anni perché lui morì nel 38 questo amico rivale e in qualche modo anche nemico scrisse un telegramma alle due sorelle di Pascoli che erano le uniche donne poverino di cui Pascoli si era innamorato la sorella Maria la sorella Ida è vero che quando la sorella Ida andò a sposarsi per lui fu un trauma perché lo considerò un tradimento quando appunto Pascoli morì lui scrisse un telegramma alle sorelle dicendo quando tutto sarà decantato quando i giochi saranno fatti anche in Italia si capirà che Pascoli era il più stato il più grande poeta italiano dopo Petrarca è un documento c'è il suo telegramma la conoscevi? beh è famosa anche quella frase di D'Annunzio che dice la poesia italiana nasce nel 200 con Dante e rinasce con me dopo sette secoli saltando non solo Pascoli ma anche Leopardi Petrarca ma io ho detto questo perché appunto lui che era un fottuto egoista egocentrico beh aveva un altro senso di sé lo so ma che comunque desse questo riconoscimento sia pure posto a Pascoli mi era sembrato un gesto di grande ma ti racconto anzi vi racconto tu lo sai probabilmente un altro episodio su Pascoli e D'Annunzio che nel 1900 ogni anno si teneva una commemorazione di Dante a Firenze e Pascoli teneva moltissimo essere invitato in particolare quell'anno invece scelsero D'Annunzio Pascoli si arrambiò moltissimo furiosamente scrisse una lettera pubblica ai giornali senza mai citare D'Annunzio dicendo oh oggi per parlare di poesia bisogna essere andare a cavallo praticare gli sport sedurre le donne insomma era chiaramente diretta a D'Annunzio e D'Annunzio scrisse una lettera privata a Pascoli una lettera tremenda i tali Pascoli erano veramente triste con questa sorella talmente direi maniaca che quando Pascoli morì nella tomba di Pascoli di marmo con dentro la barra volle che fosse fatto un buco così poteva mettere la mano sulla barra e D'Annunzio gli scrisse sì è vero io cavallo con le compagnie romane piaccio le belle signore ed esse mi piacciono e tu che vivi con la tua sorellina e porti a fare la pupù al tuo cane liquidato ma lui amava e rispettava i grandi poeti naturalmente soprattutto Dante abbiamo visto nella casa oggi io ho qui una cosa per te che non è il premio è un'aggiunta al premio non c'è Michela Luisa Maria mi avete detto che c'era sono scomparsi non scappate non scappate con l'oggetto ma sono sicuro che stanno già correndo a prenderlo e a portarlo sul palco voi vi conoscevate? noi non ci conoscevamo se non di fame e di rispetto però non vi eravate non siete frequentati non vi siete mai incontrati? no no ma io ricordo che tu sai che tutti noi riceviamo manoscritti di poesie per avere un giudizio immagino quante ne ricevi tu dopo aver pubblicato anche prima canzoni testi di canzoni perché appunto sono più i poeti dei lettori di poesia poeti veri sono pochissimi ma capita di ricevere appunto testi con la preghiera di giudicarli e se possibile di mandarli a un editore e mi volevi mandare un testo? io io non lo faccio quasi mai perché non vale quasi mai la pena a volte ho ritratto alcuni autori di libri di storia ma c'erano libri di poesie che mi piacevano quando andai a crocetti quando andai a crocetti che rispose con due righe non va ti ricordi questa cosa? rimossa ma chi sa quante volte la scritta non va tu rispondi e poi ero 5-600 manoscritti l'anno 5-600 l'anno moltiplicato per 40 chi è bravo mi chiedo esiste un metodo perché si accenda una una luce in te e dici questo sconosciuto mai visto che vive chissà dove è interessante sì sì certamente è capitato più volte per esempio con un poeta scomparso era un ragazzo che aveva avuto un incidente a 16 anni era rimasto paraplegico per Luigi Cappello grandissimo poeta straordinario e lui mi mandò le sue poesie io pubblicavo sei stato il primo a pubblicare Cappello tu? sì poi però me la rizzoli cos'è questo gesto non capisco questa gestualità arcaica che è un altro editore più ambiente e loro hanno le sirene dei loro contratti i grandi editori quindi ecco di corsa grazie grazie Francesca allora nel 1921 c'era il centenario della morte di Dante Danuzzo che adorava Dante non andò al funerale come non andò a quello di Pasquoli non andò a quelli di Carducci non amava i funerali francamente neanch'io certo soprattutto il protagonista quello che la ama meno secondo me però io se potessi è indifeso in occasione gli tocca io se potessi non andrei neanche il mio in quel caso non era il funerale di Dante era una celebrazione funerale di Carducci mandò un ramo di quercia la quercia caduta Carducci aveva vinto l'anno prima il premio Nobel ed era il vate Carducci il vate d'Italia appena morto Carducci Danunzio tenne una orazione funebre al teatro lirico di Milano tra l'altro di due ore che terminò con le parole è morto il vate io sono il vate nessuno fiatò nessuno disse no veramente non c'era nessun dubbio era lì allora per Dante Danunzio ebbe questa idea fece tre grandi sacchi di juta grandi così li fece decorare da De Carolis grande pittore dell'epoca suo amico con una frase inclusa est flamma cioè eh e li riempì con la piante di alloro del vittoriale poi come li manda a Ravenna per adorare la tomba di Dante mica così con la posta del treno prende tre eroi dell'aeronautica della prima guerra mondiale tutte medaglie d'oro e con tre aeree uno ciascun sacco li manda a Ravenna per portare i sacchi i sacchi sono ancora accanto alla tomba di Dante tranne uno che io presto in prestito ed è qua sotto e credo che ci rimarrà ancora fino al prossimo centenario però noi produciamo e mettiamo a disposizione del pubblico sacchi più piccoli con la stessa decorazione con l'alloro del vittoriale io sono felice di darne uno e di darne uno a Lorenzo grazie può servire anche per cucinare è buonissimo io lo mastico l'alloro a volte la pizia le pizie prima di enunciare l'oracolo masticavano foglie dell'alloro io ci ho provato pensando che avesse un potere psicoattivo niente hai provato a fumarlo sai che è velenoso no no io non fumo per cui ero proprio incuriosito perché ho letto in un libro che le pizie ma sai che è velenoso l'alloro e me l'hanno detto però io sono ancora qua quindi non è vero cioè a meno che io non abbia un mio personale antidoto incongenito però beh poi è velenoso si usa in cucina normalmente certo metti una foglia dell'alloro eh certo fantastico perché si usa l'alloro come simbolo della poesia non so forse perché la mettevano in testa c'è un motivo legato mitologico probabilmente nella Grecia antica l'alloro era la pianta di Apollo ah quindi certo certo torniamo alla poesia sì una curiosità che ho saputo di questo libro che mi ha detto che a un certo punto vi siete accorti che mancava Ezra Pound lui 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 come è nata io me ne sono accorto me ne sono accorto perché perché mi sembrava che la circolazione del nome Ezra Pound non rendesse giustizia alla grandezza del poeta che limitasse questo nome ad una ad una questione di pura attualità ok siccome era un grande limite pensare che Ezra Pound fosse semplicemente il nome di 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 un'associazione no della quale fra l'altro io non non mi sento neanche di 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 condividere la maggior parte delle cose e molte non le conosco neanche però invece ehm i Cantos mi hanno sempre dato perlomeno la sensazione di essere di fronte a qualcosa di molto grande ehm di qualcosa di per me molto difficile ma sicuramente molto grande come tante delle cose che non si capiscono a volte di fronte alle cose che non si capiscono ci limitiamo a dire non mi piacciono perché non le capisci ma alcune di queste cose comunque continuano a risuonare continuava a risuonare dentro di me la sensazione che di essere di fronte a qualcosa di di grande a una grande a una grande poesia una personalità gigantesca e quindi senza pregiudizi come di solito io approccio le cose provo ad approcciare le cose eh ho approfondito eh Ezra Pound eh grazie alla nuova tecnologia e alla possibilità di vedere delle sue cose su Youtube per esempio no oggi viene offerta con piacere no una volta c'era solamente fuori orario è un uso straordinario è un uso straordinario quindi vedere l'intervista di Pasolini a Ezra Pound che c'è su Youtube è fantastico è un meraviglioso pezzo di storia della cultura italiana e sentire lui che recita una sua poesia in italiano e quindi ho proposto a Nicola dobbiamo mettere Ezra Pound ci vuole qualcosa di Ezra Pound troviamo qualcosa di e ho proposto una poesia che lui aveva pubblicato nella rivista di Crocetti poesia che è meravigliosa è una delle cose delle grandi cose dell'editoria italiana che non abbiamo mai citata importantissimo Crocetti pubblica una poesia adesso è diventata Pimestrale Pimestrale che si chiama poesia molti di voi la conoscono la cosa eccezionale di questa rivista quella che colpì me quando l'ho comprato le prime cose poi l'ho comprato di tutte è il fatto che in Coppertina ci fosse un poeta cioè di solito come sorrisi e canzoni nel senso che lì c'è un cantante o un personaggio di TV in una poesia c'è la foto o l'immagine di un poeta e questa è una bella porta d'ingresso ed è bellissima è fatta ancora oggi è bellissima seppure è cambiata questa cosa con Feltrinelli però il senso il valore della rivista rimane è eccezionale su una delle riviste su un numero c'era dedicato a Ezra Pound c'erano delle cose meravigliose di Ezra Pound in particolare quella che poi abbiamo pubblicato che è molto lunga come spesso le cose di Ezra Pound in questo libro non c'è nessun frammento di poesia le poesie che ci sono sono tutte complete non ci sono le parentesi con i tre puntini mai c'è sempre il e quindi ecco mi sembra come è un peccato perdere perdersi Ezra Pound perché hai paura per paura perché vergogna perché pensi di diventare complice di qualcosa perché questo nostro paese la politica ha tutto per vale e tutto in qualche modo inquina spesso soprattutto quando si parla di certi argomenti come la poesia che dovrebbe rimanere la libertà nessuno dovrebbe mettere mai un cappello su un poeta no mai dovrebbe per rispetto per rispetto per rispetto della libertà del poeta poi parlando di d'annuncio soprattutto scusa come se leggendo d'annuncio uno diventasse una maniera sessuale si se le cose questo rischio esiste culturalmente soprattutto nella cultura popolare è un po' come quando io mi ricordo il mio papo che era un democristiano di ferro non voleva che quando c'era la festa dell'unità a Cortona nel nostro paese d'estate noi non ci dovevamo neanche avvicinare al giardinetti dove c'era la festa dell'unità lui proprio diceva voi potete andare ovunque anche farvi male anche andare a arrampicarvi sui muri ma quella strada lì non ci dovete andare poi io naturalmente ci andavo quelle salcicce perché il profumo era buono c'era bella musica si ballava quindi insomma non c'era nessun aspetto ideologico però per lui era una questione di principio proprio perché c'era questa sensazione che tu anche semplicemente vedendo i figli di mio padre lì potessi pensare questo accade nel nostro paese l'altro giorno leggevo questa cosa che mi ha che ho detto ecco questo è questo è questo è racconta questa cosa di cui stavo parlando un politico che dice adesso dobbiamo fare una serie televisiva su fiume lo so zitto bene non spetta un politico dire questo non spetta un politico perché vuol dire già entrare in un ambito di propaganda politica mentre la vicenda di fiume non ha niente a che fare è una vicenda da un punto che andrebbe fatta andrebbe affrontata con un grande regista con un grandissimo autore di un grande sceneggiatore ma deve essere un'opera d'arte non può essere un'opera di divulgazione o di propaganda per la parte politica in carica come si dicono in questo momento questo vale per tutte le parti politiche è un discorso generale proprio perché rischia quella cosa di diventare una bandierina e lo so però ti ho una bella notizia che molta molto prima che quest'uomo che è un funzionario da Rai un altro dirigente da Rai dicesse questa cosa già da due anni è in progettazione una serie su fiume indipendente questo è fantastico pensa che io ne parlavo con mia moglie tempo fa proprio con Francesca e quando c'è stato un momento in cui sono stato risucchiato proprio dalla vicenda di fiume come succede con certe serie televisive non leggevo altro cercavo solo quello ho letto Disobbedisco ho letto La festa di rivoluzione ero molto affascinato dalle figure di quell'impresa Guido Keller Comisso scocchi la carta del Carnaro è una vicenda meravigliosa della nostra storia quella lì piena e poco conosciuta poco conosciuta sia se altro paese che avesse una storia come quella di ne fa un film di Spielberg eccetera e dicevo proprio questa è una serie incredibile pensa ho telefonato io non conosco molti registi alcuni però sono un amico ho chiamato Gabriele Muccino e ho detto Gabriele leggi di questo libro questo è un filmone questo è un filmone filmone in costume aeroplani fatta a donne le donne col pugnale è un 68 fatto nel 1919 è un Woodstock cent'anni prima ed era interessante poi quello che mi dici conferma il fatto che comunque ci stiamo arrivando sì perché è una bellissima storia poi sono successe cose per cui oggi possiamo anche affrontare affrontare quel tema con più libertà anche no con più leggerezza anche senza sentirci c'è stato un momento in cui addirittura i futuristi no venivano a scuola non si studiavano i futuristi io avevo un professore di storia dell'arte eretico a suo modo che quasi non dite un giro ci fece fare un grande lavoro sui futuristi che a me personalmente al liceo ha cambiato la vita poi un professore d'italiano alleato di questo professore di storia dell'arte montò una serata futurista nel teatro della scuola dove io facevo palazzeschi e per me quello è stato l'inizio del rapporto con le parole musicate con la parola che viene prima del significato cioè col suono della parola che poi è una cosa naturale da bambino uno emette i suoni prima ancora di sapere cosa vogliono dire quei suoni lì quindi il futurismo spesso mi domandavo perché il futurismo non è celebrato come come d'Urre è forse il movimento artistico italiano più importante ed è italiano con il barocco sì sì del novecento intendo io il più importante del novecento e niente quindi scusate sono stato un po' un po' lungo ma mi faceva piacere non sei d'accordo? sono contento se non sei d'accordo perché ti volevo rassicurare sul fatto che i politici non metteranno mai le mani sui poeti perché sono troppo ignoranti non li conoscono allora abbiamo parlato di Pound tu però hai tradotto tantissimo hai tradotto fra l'altro un'odissea che io ho voluto che fosse qui in vendita solo il vostro libro è l'odissea perché secondo me poi se vuoi ce ne parli è bellissimo ma io so che tu hai tradotto un poeta greco che ami moltissimo sconosciuto ai più e vorrei che ci parlassi di lui di chi stiamo parlando? beh è come di chi stiamo parlando? ne ho trovato decine di poeti greci no no quello che mi piace tanto a te Rizzos eh Rizzos eh dai parlaci di Rizzos io l'ho scoperto grazie a te anche io è uno dei più grandi poeti uno dei più grandi poeti del novecento io ho avuto la fortuna di esservi amico per vent'anni è una storia se posso raccontarla molto bella no no te è buona te è buona c'è anche qui una strapitosa di Rizzos ora la cerco ecco leggila vai intanto dai intanto sappiamo di cosa parliamo no no lascia lascia ecco mettiamola aperta ma vuoi che prima leggo? sì cos'è non lo sappiamo di cosa parliamo non metto gli occhiali sorry comunque ho fatto ieri mattina l'esame della vista mi hanno detto che sono esattamente come l'hanno prima per cui perfetto da uno me ne mancava uno me ne mancava uno anche stanno quindi ho gioito questa cosa dov'è? te lo ricordi? dov'è? no no cerco io scusate la l'impasse non tante quante sono le poesie della raccolta? questo andiamo di cento 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 diciasette cento 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 diciasette quindi cento diciasette poette no qualcuno ricorre un paio di volte Rizzo Rizzo per esempio credo che ricorra un paio di volte Cavafis ricorre un paio di volte scusate ragazzi sono tutto cinquantotto al buio poi eh qual è? io dormo ancora ah ok cioè non ha un titolo però di solito quando non ha un titolo il titolo è il primo verso primo verso è una poesia d'amore è una poesia d'amore la leggo io la leggo tu dai no no la leggo io io dormo ancora sento che ti lavi i denti in bagno in questo rumore ci sono fiumi alberi un monte con una chiesetta bianca un greggio di pecore sull'erba ne sento i campanelli due cavalli rossi una bandiera sul poggiolo della torre un uccello sul comignolo un'ape ronza e una rosa la rosa trema ah quanto tardi e ora non cominciare a pettinarti perché dormo ti dico aspettando la tua bocca non voglio odore di menta nella tua saliva se mi sveglio pettini e pettinini e spazzolini dalla finestra te li butto ma Rizos Rizos secondo me è uno dei più grandi poeti del novecento ha avuto la sventura di scrivere in questa lingua allora io detesto i burocrati e i burocrati di Bruxelles sono i peggiori che si possono immaginare ma no non voglio far politica ma semplicemente perché hanno perché dico questo perché hanno definito il greco lingua minoritaria a me sono come una bestemmia che il greco il greco è la madre di tutte le lingue ma è la più bella di tutte le lingue anche secondo me è la più ricca cosa che pochissimi sanno il greco ha un milione e mezzo di lemmi nemmeno l'inglese tanto per dire loro la definiscono una lingua minoritaria spregiativamente ma sono ignoranti Rizzo si era un poeta di sinistra anzi era comunista e la Grecia ha avuto nella sua travagliata storia più di una diecina di colpi di stato fra tentati e riusciti tutti di marca fascista o peggio e ogni volta che andava su un governo fascista che succedeva ogni pochi anni prendevano tutti gli intellettuali di sinistra o su postitalia qualcuno non lo era e li mandavano in campi di concentramento in isole remote che allora erano isole anche poco conosciute per esempio sono delle isole c'è un'isola che è in the middle of nowhere proprio si chiama Iostratis Iostratis che adesso dove io pensavo di andarmi a ritirare perché ci sono 200 abitanti e un traghetto che ci va una volta al mese cosa di meglio però una giornalista l'ha scoperta ha scritto degli articoli sul giornale e addio addio Iostratis Rizzo si è fatto tutte le isole campi di concentramento Iostratis Macronisos Iaros Leros quella dove c'era un più famoso manicomio d'Europa come si chiamava se le fatte tutte io mi ero avevo conosciuto letto in greco le poesie di quest'uomo che all'epoca era completamente sconosciuto in Italia e frequentavo un gruppo di esoli greci tutti nemici accaniti del regime che allora era quello il regime cosiddetto dei colonnelli perché avevano fatto un colpo di stato dei colonnelli avevano imposto un regime pazzesco vietavano le minigonne i capelli lunghi vietavano la lettura di Tono Stoi vietavano la lettura dei maggiori scrittori europei europei e Rizzo si era totalmente sconosciuto in Italia allora mi sono messo a tradurlo ho cominciato a tradurlo ho pubblicato il suo primo libro in Italia che consisteva di una serie di poesie che lui aveva scritto in un campo di concentramento e le aveva nascoste dentro delle bottiglie vuote sotterrate e anni dopo alcuni amici suoi sono andati a recuperarle e l'ambiente che frequentavo che era quello dei fuoriusciti greci che non potevano più rientrare in Grecia perché erano considerati nemici del popolo qualcuno addirittura gli avevano tolto la cittadinanza per cui era apolide che non c'è niente di peggio che se era apolide perché tu non hai passaporto non hai patria non hai casa non hai nulla a un certo momento viene fuori la notizia che Rizzo si è morto panico fra gli amici greci all'epoca non c'era parlo del 68 no del 70 70 non c'era la teleselezione con la Grecia non c'erano le le comunicazioni facili che ci sono oggi ovviamente quindi qualcuno deve andare giù a vedere a controllare se Rizzo si è morto allora tocca a te perché tu sei italiano e non rischi niente dico sì ma io mi sono mischiato a tutti voi le spie della polizia greca mi hanno segnalato anzi questo lo sapevo per certo perché mi arrivavano lettere dalla Grecia non azzardarti a venire perché sei ricercato è guai a te se vieni e io dicevo ma io non posso rischiare di essere ci devi andare e allora prendo il coraggio a quattro mani e vado c'era una partita di calcio Italia-Grecia ad Atene credo finì 2 a 1 non mi ricordo per una delle due squadre 2 a 1 per la Grecia forse mi infilai nell'aereo dei giocatori di calcio che andavano ad Atene un venerdì partì e dissi ai colleghi giornalisti guardate che io rischio di essere arrestato se mi arrestano fate casino perché arriviamo al controllo della polizia che allora era molto chiuta avevano un librone nero che ogni passaporto che gli avevano consegnato veniva sfogliato alla ricerca di possibili dissidenti arriva il mio turno io arrivo lì con il mio passaporto italiano e anche un po' di Tremarella perché ero sicurissimo di essere compreso nel loro libro nero consegno il passaporto e il poliziotto mi fa in greco come ti chiami? e io rimango così perché non mi aspettavo una domanda del genere come fa a sapere che io sono greco e quindi non rispondo lui pensando che io non capissi mi dice in inglese what's your name? e l'ho detto mo ti frego dico che il mio cognome no what's your last name? dico che il mio cognome è Nicola vediamo se non c'è un altro ricercato di nome Nicola la faccio franca nel frattempo passava il tempo e questo poliziotto impaziente chiude il passaporto e mi dice in greco levati dai coglioni prendo un taxi vado nella casa editrice di Rizos che si chiamava Kedros che vuol dire Cedro che era diretto da una donna eccezionale devo aprire una piccola parentesi si chiamava Nana questa donna che è l'abbreviativo di Athena in greco una donna sembrava una dea greca quando ci fu il colpo di stato lei mandò una lettera mandò un messaggio non una lettera un messaggio nel campo di concentramento dove era rinchiuso Rizos insieme a centinaia di altri dissidenti chiedendo un testo da pubblicare in Grecia si può fare perché a parte che i poliziotti sono tutti figli del popolo quindi insomma in breve arrivarono indietro diciotto testi tutti contro il regime e Nana pubblicò un libro intitolato diciotto testi prima che la censura occhiuta e feroce si accorgesse qual era il contenuto di questo libro passarono cinque giorni in cinque giorni vendettero cinquemila copie poi lo sequestrarono e misero in carcere la povera Nana scusate perché mi commuovo a ripensarci non è finita non è finita dopo sei mesi ci fu un'amnistia imposta dagli americani che erano complici di questo stato di questo colpo di stato e Nana uscì uscì dal carcere mandò un altro messaggio ai prigionieri politici i quali mandarono altri diciotto testi e lei pubblicò un secondo libro intitolato diciotto nove testi capito che gente c'era in Grecia che donne c'erano in Grecia ecco torno approdo in qualche modo ad Atene prendo il taxi vado dalla Nana che avevo conosciuto prima perché frequentavo la sua libreria aveva una bellissima libreria nel centro di Atene nel frattempo io avevo pubblicato il primo libro di Rizzo ho una sorella gemella che era andata in Grecia con il nome del marito e aveva portato alla Nana questo libro quindi Rizzo sapeva che era stato finalmente tradotto in italiano dico sono il traduttore di Rizzo lei mi abbraccia cosa fai qui dico sono venuto a trovare Rizzo con la voce che sia morto dice no non è morto ma è a domicilio coatto perché aveva avuto un cancro era stato operato in un ospedale militare di Atene e l'avevano mandato a casa della moglie che era medico per paura che gli morisse in campo di concentramento e diventasse un eroe e quindi l'avevano mandato a casa della moglie che era appunto una nota era la più famosa dottoressa di Samo perché era il medico condotto di Samo e Nanami dice guarda prendi l'aereo vai no dice non puoi andare lì perché ti arrestano dico ma io sono venuto fin qua e adesso non vado a Samo figurati prendo l'aereo vado a Samo ma Nanami mette sull'avviso dice guarda che prendi arrivi dalla parte opposta della casa di Rizzo dove c'era l'ambulatorio della moglie e il tassista ti farà l'interrogatorio perché sono tutti spie della polizia ti dirà tu che fai qui vieni da Atene e devi dire vado a farmi visitare dalla dottoressa Rizzo Rizzo si dice in greco per il genitivo e quello ti dirà ma vieni da Atene a farti visitare una cittadina di provincia devi dire che hai questa strana malattia di cui la signora Rizzo è specialista e avviene tutto come previsto arrivo e mi dici però stai attento perché lui ha la guardia 24 ore al giorno davanti alla porta di casa domicilio coatto non è come gli arresti domiciliari che puoi uscire a farti un giretto quando vuoi c'era la guardia 24 ore al giorno davanti alla porta arrivo non c'è nessuno davanti alla porta suono lui mi apre uno spiraglio si guarda intorno dice ma non c'è nessuno dico no ci sarà andato a pisciare è imbroccato il momento in cui la guardia probabilmente era andato a fare i suoi bisogni quindi entro dentro mi tiene dentro segregato tre giorni diventiamo amici e siamo rimasti amici per vent'anni questo era Rizzo io dopo questo racconto non so più che dire neanche io ce l'hai? no no io sono non avevo concorso questo racconto ma ho ho un regalo che mi ha fatto Nicola quando poi è uscito il libro mi ha regalato un sasso disegnato da Rizzo perché lui nel campo di concentramento disegnava faceva dei piccoli disegnini sui ciotoli proprio sui sassi siccome non avevano carta non c'era carta lui scriveva la poesia sui pacchetti di sigarette perché i pacchetti di sigarette greche avevano un foglio bianco insieme a una carta argentata che avvolgeva le sigarette toglievi la carta argentata e ti rimaneva un bel foglio bianco su cui potevi scrivere tutto quello che volevi tu hai mai scritto poesie? a 14 anni 14 anni seduto sulla testa di Lorenzo Viani una grande scultura che c'era sul molo di Reggio dove abitavo e ho scritto una poesia sui gabbiani poi mi sono accorto che era estremamente simile a quella a quella di Cardarelli e non ho più ceduto ma per caso era simile conoscevi quella di Cardarelli conoscevo quella di Cardarelli e ho cercato di avvertire di avvertire un doppione di farlo meglio bene io non so dove i gabbiani abbiano il nido dove trovino pace io sono come loro una vita la sfioro questo è Cardarelli o sei tu? ah questo è Cardarelli ok bene io sono molto contento di aver partecipato mi avrebbe fatto lo stesso piacere partecipare in platea perché per me vi ripeto sarei venuto volentieri anche ad assistere semplicemente alla serata sono molto contento di essere qua sono felice per Nicola perché prima di andare a ritirarti nell'isoletta lì di Rissos c'è da fare un po' possiamo dire questo grande progetto assolutamente che stai per pubblicare esce a Natale come strana esce a Natale me l'ha detto poco fa questo direi che è una notizia siete amanti della poesia perché 1500 pagine un volume che uscirà a Natale che è un'antologia della poesia universale quindi l'idea che comunque Crocetti abbia raccolto sono tantissime poesie immagino un'antologia la sua antologia a un certo punto io ho scoperto da ignorante che la parola antologia ha a che fare con i fiori che non lo sapevo antologia sono quelle parole che uno sente dire mille volte poi l'antologia è la composizione di mazzi di fiori ha a che fare con la composizione di mazzi di fiori quindi è bello l'antologia è proprio una cosa personale non esiste l'antologia perfetta come non esiste il mazzo di fiori perfetto esiste il mazzo di fiori regalato con amore quindi immagino che sarà pieno di amore di amore di una vita quindi insomma io non vedo l'ora di averlo tra le mani uscirà sotto 1.500 pagine 1.500 pagine 1.500 pagine 1.500 pagine se poi vi capita se posso darvi visto che il premiato è Crocetti se volete affrontare l'estate con un libro importante leggete l'Odissea di Kazan Zakis tradotta da Crocetti 33.000 versi 33.333 33.333 che sono i sogli lingui quello dei trentini però sono tantissimi è un libro molto ed è un vero rip Lorenzo io ti sono grato di alzare il livello della cultura popolare italiana che era anche passato quello vediamo la tua presenza qui a me fa mi fa mi fa piacere proprio io sono molto grato a te per tutte le cose anche per quello che hai fatto di questo posto va bene adesso diamo il premio direi che il palletto lo consegna eccolo qua sì bene bene professor Di Bellini allora che lo apriamo la riproduzione del cavallo blu di Mimmo Paladino di Mimmo Paladino Lorenzo se continui così forse fra trent'anni chissà me fa già bene con me ma non mi faccio venire grazie grazie a tutti arrivederci grazie 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 grazie